e la legge appunto Salvatore Rantanzi si intitola Siamo allora Salvatore, Siamo, Siamo in che senso? nel senso che vi dirò si è diavola? di Siracusa va bene, ti ascoltiamo, Siamo buonasera a tutti siamo ancorati ancora siamo al cuore come muschio siamo sul sasso come siamo febbre nell'osso siamo terremoti segnati sui calendari della carne come armistizi siamo di pace siamo la casa con le sue crepe le crepe siamo con le sue mani siamo la pena che non vale darsi che arriverà comunque domani grazie bravo sì grazie